Cari spettatori, benvenuti al nostro consueto appuntamento con le notizie e i gossip. Prima di immergerci nelle novità di oggi, desideriamo ringraziarvi di cuore per ogni mi piace, e iscrizione al canale, sono segni immensi del vostro apprezzamento. Grazie di cuore. Tuttavia dobbiamo annunciarvi questa notizia con un umore diverso dal solito. Con il cuore pesante, vi raccontiamo un annuncio commovente fatto da Milo Infante all'inizio del programma. Con una voce carica di emozione, Milo ha condiviso con noi la triste notizia della scomparsa improvvisa di Roberto Boni, una figura ben nota e amata del nostro show. Oggi, purtroppo, non potrà essere con noi, poiché sta attraversando un periodo molto difficile a causa di un grave lutto familiare. Milo ha inviato un messaggio carico di affetto e sostegno a Roberto, che in questo momento sta affrontando un dolore profondo. Anche Roberta Bruzzone, solitamente presente con il suo sorriso e la sua energia, oggi non è con noi. La ragione è un lutto che l'ha colpita molto da vicino, la perdita di suo padre. Durante il programma, Monica Leofreddi ci ha condiviso un momento molto personale, raccontando di aver parlato con Roberta al telefono questa mattina, offrendole conforto e vicinanza. Sappiamo tutti quanto Roberta sia forte e decisa, ma oggi, Monica ha notato un dolore profondo nella sua voce, sottolineando quanto questo evento l'abbia toccata. Infine, Roberta ha scelto di condividere la sua perdita anche sui social, pubblicando una toccante foto che la ritrae insieme a suo padre in un momento felice. La didascalia recita. Ciao papà, grazie di tutto. È stato un tributo commovente che ha toccato profondamente noi e i suoi follower, i quali hanno risposto con una cascata di messaggi di cordoglio, avvolgendola in un caldo abbraccio virtuale in questo momento così difficile.